Alessandro Goldoni, giornalista scrittore, figlio d'arte, il suo ultimo libro si intitola 2029, edito da Murcia. Goldoni, di cosa parla? Il libro parla di una storia, diciamo che è un thriller, un giallo ambientato a Bologna. Il titolo non è casuale, 2029, è un titolo futuribile che però si richiama al 1929, che per molti è una data storica e anche un po' così drammatica quando ci fu il famoso crollo di borsa. In questo libro, che si può definire di fantascienza, anche se è una fantascienza molto vicina a noi, c'è una particolarità, cioè si svolge in un mondo in cui gli individui, le persone, sono quotate in borsa come le azioni. È un mondo dominato dalle leggi di mercato, che non è poi così lontano da quello che già avviene oggi. Una storia ambientata a Bologna. Sì, perché Bologna è la mia città e io tutto sommato volevo tenere un contatto con il territorio. È una storia, come dicevo, gialla, però i protagonisti di questo giallo sono personaggi abbastanza vicini alla bolognesità. E però, insomma, in questa Bologna fantascientifica credo che si possa ritrovare un po' anche della Bologna reale.